Nell'ambito dei controlli sui beneficiari del reddito di cittadinanza, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno denunciato alle competenti procure della Repubblica sei persone che hanno ottenuto la misura agevolativa senza averne titolo, avendo riportato gravi condanne ormai definitive, ovvero omettendo di indicare nelle domande chi tra i propri familiari le aveva subite. Gli accertamenti delle fiamme gialle, in stretta sinergia e collaborazione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, hanno riguardato i soggetti che dall'incrocio delle banche dati in uso risultavano avere precedenti per associazione mafiosa. Mediante lo scambio informativo con gli enti interessati, gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria sono così risaliti a quanti, tra questi, erano inclusi allo stesso tempo negli elenchi degli aventi diritto. Infatti tre di loro, pur di far risultare la regolarità della propria posizione, avevano prodotto delle autocertificazioni dalle quali nulla emergeva in merito alle condanne penali subite anni prima. Nel corso degli approfondimenti sono stati inoltre scoperti ulteriori tre beneficiari che avevano compilato i moduli tralasciando di dichiarare l'esistenza del nucleo familiare di persone vicine alla criminalità organizzata. Le omissioni accertate hanno consentito agli indagati l'indebita percezione di fondi per oltre 30.000 euro a partire dall'anno 2019. I responsabili sono stati così segnalati alle competenti autorità giudiziarie per la specifica ipotesi di reato contemplata dalla normativa sul reddito di cittadinanza, fatti specie per la quale rischiano adesso fino a sei anni di reclusione. D'intesa con l'Inps sono state già avviate le procedure per la revoca immediata del sussidio e il recupero delle somme illecitamente intascate. La segnalazione all'Istituto ha altresì impedito che siano erogate le spettanze già in pagamento nei prossimi mesi, evitando in questo modo un ulteriore sborso di 60.000 euro.